E rieccoci in diretta, Voce delle Chiese continua il suo viaggio, continuiamo la nostra puntata di oggi, di questo 24 agosto 2023. Cito la data non a caso perché il 24-25 agosto, nella notte tra il 24 e il 25 agosto del 1572, avveniva una delle più grandi stragi degli Ugonotti in Francia, la strage di San Bartolomeo a Parigi. Una strage che iniziò, almeno nelle intenzioni, per quanto ci viene raccontato dalla storia in modo contenuto, però sfuggì un po' al controllo e furono massacrati migliaia e migliaia di Ugonotti, non solo nella città di Parigi, ma anche in altre zone, in altre grandi città della Francia. Perché vi cito questa data? Intanto perché è una sorta di anniversario della giornata di oggi, ma anche perché, parlando di Francia, facciamo un giro un po' lungo, è proprio dalla Francia che in qualche modo nasce il movimento della Chiesa Valdese, il movimento valdese. Ne parliamo insieme al pastore Eugenio Bernardini, già moderatore della Tavola Valdese, già in emeritazione, non ancora quasi, siamo quasi lì, Eugenio, attualmente in servizio alla Chiesa di Villarperose e Pramollo, e tra l'altro coordinatore di una commissione che si sta occupando per celebrare gli 850 anni del movimento valdese, che come dicevo è nato in Francia, Eugenio. È nato in Francia, a Lione, la data precisa diciamo non l'abbiamo, ma intorno al 1174, quindi l'anno prossimo saranno gli 850 anni di questa data di riferimento. Un mercante abbastanza ricco di Lione ha un'esperienza di conversione, fa una scelta di povertà e di predicazione e probabilmente senza neanche che lui se lo aspettasse, con lui si organizza un movimento di simpatizzanti, poi di compagni di avventura e nasce il movimento dei poveri di Lione, poi diventato il movimento dei valdesi, il movimento valdese che ha attraversato territori europei molto grandi, e anche la Francia, secoli di persecuzione e secoli di calma relativa fino a giungere ai nostri giorni. Gli ugonotti erano un po' i cugini francesi dei valdesi? Erano i cugini francesi anche perché sono nati nel territorio del re di Francia e il territorio dove più sono stati presenti, cioè al di qua delle Alpi, era di una famiglia nobile apparentata con il re di Francia, cioè i duchi di Savoia. Quindi spesso quello che si decideva a Parigi contava anche a Torino e a Pinerolo e anche all'episodio che hai ricordato della strage della notizia a Bordolomeo fu conseguenza e ebbe anche dei riflessi successivi della politica dei duchi di Savoia contro i valdesi, proprio in quegli anni lì. I valdesi, il movimento valdese che inizialmente fu tollerato, nel senso all'inizio fu studiato in parte ma non ci fu un rigetto iniziale, avvenne quasi subito dopo l'inizio, però insomma ebbe una storia nei secoli che diventò sempre più cruenta, sempre più difficile da gestire. Sì, in realtà quella è un'epoca in cui un'esigenza di rinnovamento spirituale del cristianesimo occidentale è molto avvertito, un po' a tutti i livelli. Il problema è come per, diciamo, il potere, e all'epoca ricordo che il potere politico e il potere religioso spesso erano incarnati dalla stessa figura, il vescovo principe, per esempio a Lione governava un vescovo principe della città, era accompagnare un certo rinnovamento spirituale del cristianesimo con il mantenimento dello statu quo, che era impossibile, cioè un'operazione impossibile, ed è quello che succede con Valdo e con i suoi, che è la sua proposta di libera predicazione per tutti, quindi anche le donne, di accesso diretto alla lettura della Bibbia. Ebbè, c'è lo spirito critico e la scelta della povertà significa che allora il ricco, ecclesiastico, è criticato. E quindi il potere ha sempre cercato un po' di venire a patti, un po' di contenere e in certi momenti, per interessi suoi, di reprimere, reprimere senza alcuna pietà. I valdesi non ebbero, diciamo, il movimento di Valdo di Lione e il movimento dei valdesi non ebbe la stessa storia che ebbe invece un movimento molto simile, quello di San Francesco d'Assisi, che per forza viene da fare un paragone. E la situazione politica era diversa, gli interessi erano anche diversi e probabilmente c'era anche la necessità di non allontanare tutto quello che si stava muovendo. E quindi, insomma, le vicende, lo sappiamo, sono state diverse. I valdesi hanno attraversato, come giustamente ricordava Eugenio, non solo i secoli, 850 anni, ma anche gli stati. Il movimento valdese, lo sappiamo, è collegato da sempre all'idea dell'Europa e quindi all'idea di viaggi, all'idea di spostamenti, di conoscenze e non è così scontato sopravvivere a tanti cambiamenti. Ovviamente la Chiesa di adesso è diversa, chiaramente, da quella di 850 anni fa, ma è diversa anche solo da quella di 30 anni, 20 anni fa. Ma cosa mantiene la Chiesa valdese, poi diventata Chiesa valdese, rispetto all'inizio? Un amore incondizionato per la scrittura e cioè per il fondamento della propria fede, della propria vita e della propria spiritualità. Questo è l'elemento costante che accompagna tutto questo lunghissimo periodo storico e tutto ciò che consegue lo spirito critico, la necessità di avere un popolo istruito che non solo legge, ma comprende. Perché spesso si sa leggere, ma non si sa comprendere il testo biblico. Conseguentemente anche la responsabilità, ma la libertà di predicare, che è la madre della libertà d'opinione. Il fatto che tu pubblicamente puoi dire quello che pensi, la libertà di coscienza. E poi questa scelta della povertà ha continuato a contraddistinguere questo movimento, anche quando ci fu l'adesione alla riforma e quindi il movimento valdese divenne una chiesa stabile. Per esempio in queste valli, le valli valdesi, è lì che nasce l'idea della terra, della piccola patria. Prima i valdesi non ce l'avevano. Se c'era una forte repressione andavano in Francia, in Puglia, in Calabria, si spostavano. Il Medioevo non è un periodo così immobile, anche dal punto di vista culturale. Ci si muoveva moltissimo. Nel 1500 diventa chiesa valdese e continua però, dentro le chiese della riforma, a rappresentare quel movimento critico verso ogni tentazione della chiesa di sedersi, di stabilizzarsi e di pensare che la ricchezza e l'accordo con il potere sia la forza della chiesa. Invece, diceva Valdo, è la sua debolezza e questo è un elemento di continuità di grande importanza. Bello, mi sembra che di anche una bella ventata di speranza rispetto a volte ai cambiamenti che ci fanno un po' paura, ai momenti forse un po' più faticosi, però è un evolversi, è un continuo evolversi della chiesa. Dicevamo, un movimento valdese, 850 anni, il prossimo anno nel 2024. So che a breve ci sarà un sito dedicato che accoglierà gli eventi e le iniziative che si stanno organizzando. Sì, la nostra intenzione non è avere un anno celebrativo per ricordare i fasti del passato. Ci sarà anche la messa a disposizione di una nuova storia dei valdesi in cui si porterà la conoscenza del grande pubblico, tutto quello che negli ultimi 50 anni si è scoperto su questa lunga storia. Ricordo che 50 anni fa, nel 1974, fu ricordato per la prima volta un centenario proprio della storia dei valdesi, della nascita di questo movimento che fa Capovaldo di Lione. Ma soprattutto l'interesse, quello che noi speriamo possa accadere, è che a livello della società italiana e a livello delle comunità e dei nostri enti e istituzioni ci sia la possibilità di riflettere non soltanto su ciò che sta alle nostre spalle, ma soprattutto su quale progettualità noi possiamo avere nel nostro futuro. Per questo auspichiamo che ci sia una moltiplicità di iniziative veramente a vari livelli e per coordinarle, ma anche per farsi venire reciprocamente delle idee, abbiamo pensato di riutilizzare uno strumento che fu molto efficace per le celebrazioni dei 500 anni della riforma nel 2017, cioè uno sito web dedicato in cui viene presentato l'anniversario con tutti gli strumenti che chiunque può utilizzare o cui può accedere per conoscere qualcosa di più e poi anche per inserire in un'agenda comune le iniziative, per cui io vivo in un determinato posto, posso vedere quando, dove, chi farà qualche cosa e vedendo quello che fanno gli altri magari viene un'idea anche a me di prendere spunto e penso che ci saranno iniziative le più varie, un ripensamento su ciò che è accaduto in un territorio, i rapporti con la società civile e cose di questo tipo. Bene, allora noi rimaniamo in attesa di questo sito che a breve sarà pubblicato, ringrazio il pastore Eugenio Bernardini per essere stato con noi. Grazie a voi.